Ben trovati amici a casa Rinaldi, l'appuntamento con la musica italiana oggi va a disturbare un grande personaggio che andiamo a conoscere insieme. Ecco qua con noi per voi Claudio Paris in arte Lemo. Ciao Claudio. Ciao, buon pomeriggio a tutti. Ben trovato Claudio Paris. Allora oggi ho disturbato un magistrato, tanto per essere chiari, è un cantante che però ha un mestiere molto impegnativo. Adesso io vi presento Lemo che abbiamo dietro di me nella cover dell'ultimo lavoro discografico molto bello che ci presenta questa sua avventura musicale. Quindi un Claudio Paris che di giorno lavora seriamente e invece la sera si spoglia dalle vesti importanti e diventa un cantautore. Chi l'avrebbe mai detto è il titolo del brano che io non faccio altro che ascoltare il lupo perché davvero mi piace un casino ed è anche il titolo dell'album che ci presenta. Contiene 11 brani nati dall'ascolto sin da bambino dei grandissimi cantautori italiani. Claudio Paris, ben trovato. Perché Lemo? Sì, allora Lemo è un nome d'arte che ho scelto di utilizzare un po' per differenziare questa strada rispetto alla mia principale occupazione, come dicevamo prima, è quella di magistrato qui a Bologna. E poi in realtà Lemo è il titolo di una canzone dell'album, una canzone alla quale sono molto legato, che vuol dire le parole in francese, Lemo, e che la cui pronuncia appunto richiama, è molto verosimile come un nome proprio di persona. Tra l'altro il mio cognome richiama atmosfere francesi, no? E quindi poi amo molto la Francia e quindi questo nome proprio che sembrava, questo nome che sembrava proprio un nome proprio francese, ho scelto di utilizzarlo come un nome d'arte. Allora, questo è un album che contiene 11 brani nati proprio come diciamo prima dall'ascolto dei più grandi autori italiani, cantatori. Di recente possiamo ricordare anche Vinicio Capostella e Gian Maria Testa che è scomparso qualche anno fa e io devo dire che sento molto di Gian Maria Testa nei tuoi brani. Sì, sì, probabilmente è l'autore che maggiormente ha influenzato la mia scrittura, magari anche in maniera inconsapevole, però poi effettivamente ce lo vedo tanto anch'io. Tanto è vero che proprio in questo album c'è una canzone che è spaiato, che è proprio un omaggio pubblico a Gian Maria Testa, nata come dire per descrivere certe situazioni, certe atmosfere e poi a posteriori mi sono reso conto che effettivamente era molto tributaria dell'opera di Gian Maria. Allora ho detto, anziché malcelare una sorta di plagio, facciamo un pubblico omaggio a questo straordinario artista e ho coinvolto, il disco era già chiuso, però per raggiungere questa traccia ho coinvolto proprio i musicisti che, grandi amici di Gian Maria, quindi Gabriele Mirabassi, Ferruccio Spinetti e Gian Carlo Bianchetti. Un bellissimo lavoro ragazzi, da tenere assolutamente sotto osservazione, ma soprattutto anche in ascolto e a casa. È registrato tra Puglia e Roma, Claudio Lemò è stabile a Bologna, il disco vede la partecipazione come diciamo di musicisti d'eccezione. Come mai la registrazione in queste due regioni? Sì, ecco, come accennavo poco fa, il disco era quasi chiuso ed era stato registrato quasi tutto in Puglia con altrettanto straordinari musicisti pugliesi sotto la direzione di Francesco Lommagistro che ha curato le batterie, le percussioni e anche la direzione musicale del progetto. Però poi, mentre registravamo, è venuta fuori questa canzone e quindi ho pensato di coinvolgere questi altri artisti e siccome veniva più comodo Roma perché c'è Ferruccio che è in Toscana, c'è Gabriele Mirabassi che è a Perugia, Gian Carlo Bianchetti a Bologna, ci siamo visti a Roma e abbiamo registrato. La logistica dice, veniamo un po' più su. Come nasce la tua passione per la musica, Claudio? Perché un conto ascoltare la musica è un conto invece proprio farla. Come nasce? Sì, beh, nasce da un ascolto, come dire, aiutato poi da mio padre, che amava molto quel tipo di musica, suonicchiava la chitarra e quindi mi regalò la prima chitarra, in realtà mi prestò la sua. Quindi iniziai a suonare e quindi è nato tutto da lì. Ho iniziato anche a scrivere abbastanza presto, le prime cose che ho scritto ovviamente erano di una banalità incredibile, però poi piano piano ho provato a migliorarmi e credo di esserci riuscito. E direi proprio che ci sei riuscito. Allora, parliamo di questi undici brani che troviamo nell'album Chi l'avrebbe mai detto? Back Home. E in questo brano tu ci vischietti? Sì, sì, sì. Un ritorno a casa? È un ritorno a casa, sì. È una canzone che non parla di una persona in particolare, ma in realtà comunque contiene suggestioni autobiografiche, nel senso che parla di tante storie nelle quali mi sono imbattuto e nelle quali purtroppo non sono stato all'altezza dell'altra persona. E quindi parla di questo ritorno ormai fuori tempo e che quindi non porta a nulla di buono, se non in futuro poi comunque un grande affetto, una grande estima. E quindi nonostante questo tergiversare, alla fine fortunatamente per meriti delle altre persone non si è rovinato tutto. E infatti ci sono poi altri due brani in cui la storia di Back Home prosegue. E quali sarebbero? E sono poi... Ma tu non mi parli più? E chi l'avrebbe mai detto che racconta appunto questa storia, continua a raccontare questa storia. Da prima la rabbia e lo stupore per essere stati respinti e poi invece un'analisi un po' più pacata. Sono canzoni autobiografiche oppure hai rubato racconti di... In gran parte sì, in gran parte sì, credo che tutti gli artisti non possano non partire da cose che li riguardano in prima persona, però poi ovviamente ci si sofferma anche su altre storie che magari non ci riguardano direttamente. Poi bisogna in qualche modo arricchire, no? E questo titolo invece è Fitta la nebbia. Allora, è quella nebbia che una volta c'era in Valpadana oppure è Fitta la nebbia ed è... Sì, è più una nebbia mentale, nel senso che questa canzone è una canzone, un blues, come dire, vecchia maniera e parla di questo personaggio molto particolare, molto sopra le righe, quindi ne parlo con grande autoironia, anche qui ci sono tratti autobiografici e non lo so, non so perché, ma mi fa pensare a un grande Le Boschi dei fratelli Coen, cioè uno che combina dei grandissimi disastri, dei grandissimi disastri soprattutto, ecco, in amore. Ecco, allora Claudio Paris, magistrato, poi troviamo Lemò che è un casinaro, praticamente uno che si fa travolgere dalle emozioni e le racconta. Beh, sì, sì, poi alla fine questo disco arriva dopo tanto tempo, insomma, non sono più un ragazzino e quindi ne posso parlare con autoironia, con appunto con grandi riflessioni. Sì, sì. E allora, basta, non andiamo a raccontare altre canzoni perché dovete comprarlo questo album, perché è bellissimo, 11 canzoni con chi l'avrebbe mai detto, il titolo che dà a queste 11 canzoni una canzone, che è un brano che tra chitarra e pianoforte a me fa pensare al sole, alla spiaggia, pelle abbronzate e pochi vestiti. Sì, sì, è così, è così. Del resto sono poi, come dire, le atmosfere della mia terra e quindi sì, sì, è nato proprio in quell'ottica lì. Taranto, che poi ho conosciuto Taranto a gennaio di quest'anno. Devo dire che sono rimasta meravigliata, sbalordita e innamorata, perché ho trovato una Taranto elegante, ricca, silenziosa, educata in un modo pazzesco. Sì, sì, è una gran bella città che ha i suoi problemi, naturalmente. Come tutti. Non ce lo nascondiamo, però è una gran bella città e che ha delle potenzialità ancora inespresse incredibili. Infatti io ero arrivata a Taranto ricordando l'acciaieria, perché tanto quando si parla di Taranto si parla di problemi. Ma non si parla dall'altra parte, perché se i problemi ci sono, sono un 30% di un 70% di una città meravigliosa, per quello che a me ha colpito. Comunque, chiusa parentesi di Taranto, abbiamo avuto con noi oggi Claudio Paris, il magistrato che ama cantare in arte Lemo, che ci ha presentato questo Chi l'avrebbe mai detto. Un brano che dà il titolo a tutto l'album, 11 canzoni da seguire assolutamente ricordate, in virotazione radiofonica. È presente in tutti gli store digitali e createvi la vostra colonna sonora preferita, anche grazie a Spotify, giusto? Assolutamente sì. Ecco, e tu nella tua casella playlist di Spotify c'hai messo le tue canzoni? Sì, sì, anche se non sono molto pratico io con la tecnologia, però adesso, in questo periodo, sto cercando di... Ho creato anche dei canali social che per me erano... erano... come dire, non ero molto pratico, però è chiaro, mi hanno suggerito che senza non si può fare. Senza oggi non si può fare. Se vuoi stare senza bisogna che resti anonimo da un'altra parte, quindi così. Grazie Claudio di essere stato con noi, complimenti, in bocca al lupo e a presto. Repi il lupo, grazie davvero. Arrivederci a tutti. Grazie. Grazie.